Negli ultimi anni Vittorio Garrone si è presentato al pubblico televisivo prevalentemente come compagno di Antonella Clerici, ma nella famiglia di imprenditori Garrone troviamo anche suo fratello, altrettanto famoso. Durante gli anni di relazione con Antonella Clerici, Vittorio Garrone ha sempre cercato di rimanere lontano dai riflettori della TV e del gossip, anche quando la conduttrice parlava ampiamente di lui, raccontando la loro bellissima storia d'amore. La coppia, spesso protagonista del gossip, ha preso l'importante decisione di lasciare definitivamente Roma, dove abitavano entrambi, per trasferirsi nella tenuta Basini, ad Alessandria, poco prima della pandemia. Di Vittorio Garrone si conosce ben poco, se non il fatto che attualmente è il presidente di Sadi Spa, un'azienda che si occupa della purificazione delle acque industriali, e di tempo l'engineering SRL. La relazione con Antonella Clerici ha suscitato l'interesse mediatico, ma l'imprenditore non è l'unico famoso in casa Garrone. Infatti, suo fratello è famosissimo in tutta Italia per i suoi successi lavorativi. Chi è il famoso fratello di Vittorio Garrone? Nonostante l'attenzione che i media riservano da qualche anno a Vittorio Garrone, l'imprenditore ha sempre preferito mantenere un certo riservo sulla sua vita privata, anche per tutelare le figlie Luce, Agnese e Beatrice, nate dal suo precedente matrimonio. Infatti, un altro membro famosissimo della famiglia Garrone è il fratello Edoardo, che, proprio come Vittorio, ha costruito una carriera lavorativa degna di nota. Di recente, l'attenzione si è spostata su Edoardo Garrone. Tutto sul fratello di Vittorio Garrone. Edoardo Garrone, laureato in scienze politiche presso l'Istituto Cesare Alfieri di Firenze, è noto nel campo dell'imprenditoria per essere il presidente di ERG ed è il sole 24 ore. In passato, è stato anche vicepresidente di Confindustria e presidente della Sampdoria. Durante gli anni di carriera, si è distinto per incarichi molto importanti, diventando una delle personalità di spicco italiane. Tra i suoi ruoli di rilievo c'è anche quello di membro del consiglio direttivo dell'IEFE, Istituto di Economia delle Fonti di Energia, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Della vita privata di Edoardo Garrone si conosce poco, se non il fatto che è diventato padre cinque volte e che dal 2016 è sposato con l'avvocatessa e scrittrice Anna Pettene.